La trasmissione è interamente dedicata a sue interpretazioni, ascoltiamo il secondo brano dell'antrologia operistica odierna, è l'aria Volletalor per gioco dall'opera La Spinalba di Francisco Antonio de Almeida. A questo proposito bisogna spiegare un pochettino prima che cosa succede, sono due giovani innamorati della stessa donna e uno chiede all'altro, hai fatto qualcosa con questa donna? Potrebbe essere un tema molto moderno e lui non vuol dire che non ha fatto niente, vuol dire che voleva comportarsi da gentiluomo, ma dice sì, per lungo tempo ha ascoltato i miei sospiri e che cos'è l'amore se non il sapersi ascoltare? E quindi ammise che con questa donna lui qualche cosa aveva fatto, con questo spirito che va ascoltato. Allora ascoltiamo la voce del nostro ospite Ugo Benelli insieme all'orchestra da camera Gulbenkian, direttore Gianfranco Rivoli, Volletalor per gioco. Ugo Benelli insieme all'orchestra da camera Gulbenkian, direttore Gianfranco Rivoli, Volletalor per gioco. Ugo Benelli insieme all'orchestra da camera Gulbenkian, direttore Gianfranco Rivoli, Volletalor per gioco. Ugo Benelli insieme all'orchestra da camera Gulbenkian, direttore Gianfranco Rivoli, Volletalor per gioco. Volevi agarmi, volevi agarmi, vado per prender gioco per miseria tavola. Volevi agar, volevi agarmi, volevi agarmi, volevi agarmi. Come si? Come si? di tormentarmi a proposito di Gianfranco Rivoli non a caso ho scelto questo brano ognuno di noi ha avuto qualcuno ognuno di noi è stato aiutato da qualcuno io ho tre persone che voglio ufficialmente nominare uno è il maestro Giulio Confaronieri l'altra persona è il maestro Gianfranco Rivoli e l'altro direttore dell'orchestra è Gianfranco Mannino di Gianfranco Rivoli devo dire intanto il mio debutto ufficiale a Barcellona è avvenuto perché fece un'audizione con lui e lui mi scelse avvenne così il debutto ufficiale della mia carriera a Barcellona e il debutto in Italia a Parma nel 61 l'opera era il Falstaff e abbiamo già detto che si è trattato del debutto quello ufficiale, quello vero dopo anni già di fatica, di tournée in Sud America e così via e Rivoli andò poi a dirigere l'orchestra Gulbenkian di Lisbona dove facemmo questa incisione per la Philips che vinse il Gran Premio Charpentier e Rivoli andò a Lisbona e mi chiamò anche a Lisbona praticamente questo direttore d'orchestra nei posti importanti dove è andato mi ha chiamato anche la cenerentola che fece a Versailles e che segnò il debutto della Lucia Valentini avvenne per opera di Gianfranco Rivoli che mi chiamò, allora era il reggio di Torino a cantare Cenerentola appunto Grazie a tutti! Grazie.